Ferudin Zakhirov presenta la sua prima collezione durante la Milano Fashion Week. Come mai hai scelto Milano? Milano per me è capitale moda, poi io ultimo 15 anni ho vissuto qui. Comunque tutti i buyer, tutti questi misteri settori di arrivo a Milano. Da quanti capi si compone la prima collezione? Adesso qui ci saranno 400 capi circa, poi arriverà qualcosa altro anche. Un total look, c'è tutto, inizio calzini, capelli, poi c'è piccola pelleteria, bagaglio, accessori, tutto tutto. Sono previsti anche delle aperture di store qui in città? Sì, apriamo un flagship nostro a Milano, metà maggio. Poi adesso facciamo inaugurazione del nostro showroom via Manzoni 23. Inizio marzo apriamo anche un grande nostro negozio di Mosca.